L'Inter ha deciso di puntare tutto su Frank Chessier per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il centrocampista ivoriano ha deluso le aspettative del Barcellona e potrebbe fare ritorno all'ombra del Duomo, dopo l'esperienza vissuta con la maglia del Milan, per ritrovare fiducia e continuità. I primi contatti tra le parti sono già stati avviati, l'entourage del calciatore si è detto disponibile a trattare su indicazione del club Blaugrana. Il Barca ha aperto all'accessione durante la sessione invernale di calciomercato. Sono due gli ostacoli da superare per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Il primo riguarda l'ingaggio di Chessier, che percepisce 6,5 milioni di euro netti a stagione. Servirà, dunque, un contributo economico da parte del Barcellona. E poi c'è il nodo legato alla formula del trasferimento. L'Inter proporrebbe il prestito con diritto di riscatto, ma gli spagnoli vorrebbero fissare l'obbligo in base a determinati obiettivi personali e di squadra.